buona serata nuova edizione del tv giornale di telestense oggi è il 20 maggio nove anni dal sismo appunto che colpì la miglia nel 2012 e faremo un bilancio nel corso nostro tv giornale di che cosa c'è ancora da fare a nove anni appunto da questo drammatico evento ma parleremo anche di covid ovviamente in particolare dei risultati che stanno portando i vaccini che incidono positivamente sulla curva pandemica ci occuperemo anche della giornata mondiale delle api che si tiene proprio oggi un'iniziativa presentata questa mattina in città e poi vi daremo i dettagli sul giro d'italia domani passaggio a ferrara appunto del appunto del di questo importante appuntamento ciclistico e questo comporterà anche diverse variazioni dal traffico vedremo tutti i dettagli nel corso del tv giornale ma cominciamo subito da una importante notizia si chiama vita ovvero trombosi e piastrino penia indotta da vaccino la sindrome rarissima che può colpire chi assume alcuni vaccini contro il coronavirus e che finora ha visto casi rari ovviamente per i sieri di AstraZeneca e Pfizer-BioNTech un team di 13 ricercatori di diverse università italiane incaricati dalla procura di Catania e da altre procure italiane spiegano il meccanismo diabolico che provoca questa sindrome che ha precisi sintomi e che può essere curata quando si manifesta sentiamo dunque dal professor Paolo Zamboni direttore del centro di malattie vascolari dell'università di Ferrara qual è il meccanismo dunque che scatena questa vita vediamo Succede che vengono prodotti in eccesso degli anticorpi anche anticorpi verso un qualche cosa che ci aveva colpito anche anni prima un batterio un virus che inspiegabilmente questo vaccino provoca anche la formazione di anticorpi verso oggetti che non erano stati preventivati dalla vaccinazione non solo il coronavirus cioè il SARS-CoV-2 non solo il SARS-CoV-2 e soprattutto può capitare che legano questi anticorpi invece che legarsi al virus per inattivarlo per capirci legano una sostanza che si chiama PF4 questa sostanza assieme ad un anticorpo è un potentissimo attivatore delle piestrine che è nel nostro corpo è una sostanza normale nel nostro corpo che viene praticamente a formare un complesso una coppia di danza con un anticorpo e questa coppia attiva in modo terribile disordinato drammatico le piestrine le piestrine le piestrine voi sapete sono delle piccole cellule che servono per coagulare quando ci tagliamo chiaramente quando vengono attivate fanno un coagulo e quindi un trombo perché in questo caso non c'è nessun taglio e lo fanno come ha detto giustamente la dottoressa Bighinati in serie tipiche cioè la maggior parte delle trombosi venose sono nelle gambe per esempio non esclusivamente ma principalmente qua invece parliamo di vene dell'intestino di vene del fegato di vene del cervello quindi sedi molto atipiche una volta che viene innescata questa sindrome si formano ecco si manifesta una trombosi lei ha detto si manifestano tanti trombi proprio per questo esagerato numero di piastrine che viene attivato dal legame diabolico come lei prima ci diceva ma succede anche un'altra cosa e cioè nel momento in cui si forma questi chilometri di trombi mi ha fatto impressione si consumano drammaticamente le nostre piastrine quindi immaginate noi abbiamo circa 150 mila 300 mila piastrine per millimetro cubo questi si depauperano arrivano prima a 70 mila poi a 20 mila quando siamo vicini purtroppo l'exitus hanno anche solo 6 7 mila piastrine perché sono state tutte consumate in questi trombi completamente inutili ovviamente e quindi capita l'evento opposto l'emorragia che è l'evento patologico grave che può anche portare alla morte perché dà un ictus quindi un ictus del cervello un'emorragia all'interno del cervello che potrebbe anche essere mortale voi avete trovato qualcosa di molto importante e cioè anche la possibilità di prevenire l'evento estremo e di curare la patologia quando si manifesta ma lì è stato fatto un lavoro molto molto importante sempre dal team che è stato quello di studiare tutte le cartelle cliniche delle persone tutti i report medici cercando fra i miriadi di sintomi che non riportati dei sintomi che fossero coerenti con quanto trovavamo chiaramente a livello autottico e quindi abbiamo costruito una sorta di flow chart di sintomi a cui bisogna prestare molta attenzione e questa vi ricordo era un interessante anticipo dell'intervista al professor paolo zamboni che darà in onda questa sera alle 23 30 nell'intervista tu per tu di telestense ovviamente condotta da dagli abbighinati ricordiamo ancora che il professor zamboni ci illustrerà le modalità della ricerca i sindro i sintomi della vita gli esami clinici che ne attestano la presenza e le terapie in grado di bloccarne gli esiti più gravi adesso invece parliamo di un'iniziativa presentata oggi due corse gratis a tutti i cittadini che si recano presso i centri vaccinali di ferrara avvalendosi del nuovo servizio di noleggio di monopattini e di biciclette elettriche partito in città lo scorso 4 maggio e quanto aveva richiesto il gruppo consigliare lega salvini premier di ferrara a elbiz ditta giudicataria del servizio che ha deciso di accogliere favorevolmente questa sollecitazione il vice sindaco con delega la mobilità nicola lodi ha dichiarato che questa formula potrebbe interessare soprattutto le fasce di età più giovani che si stanno avvicinando alla vaccinazione la presentazione come vedete avvenuta questa mattina in fiera proprio davanti al lab vaccinale intanto come sappiamo sono in costante miglioramento i dati dell'epidemia da coronavirus sul nostro territorio e quanto certificato oggi dalle autorità sanitarie estensi in conferenza territoriale e sociosanitaria l'rt in regione miglia romagna è basso parliamo dello 0,78 al momento sono quasi 500 i ferraresi contagiati 10 di questi ricoverati in terapia intensiva e i casi attivi in territorio estense sono crollati un settimo rispetto soltanto a poco fa capitolo vaccinazioni circa 4 ferraresi su 10 hanno ricevuto almeno una dose e sono 67 mila gli immunizzati tra le novità da giugno ci si potrà vaccinare anche in farmacia ma come la campagna vaccinale sta incidendo sull'andamento dei casi di covid lo vediamo in questo servizio questa è l'incidenza regionale per 100 mila abitanti e vedete appunto come è variata ed è crollata la situazione ad oggi a livello regionale ma qui possiamo vedere la situazione dei casi sanitari va per questa emblematica all'interno degli operatori sanitari con i casi totali e tutte le analisi che già ampiamente abbiamo fatto insomma quindi inutile ripetere perché ci sono tutta una serie di indagini e di studi di monitoraggio a riguardo di come la vaccinazione stia dando un contributo non banale appunto a questo a questa riduzione di incidenza di positività su quei soggetti o quelle fasce di età o categorie che hanno appunto la vaccinazione che hanno già concluso il ciclo. Quindi rispetto alla situazione puntuale di due settimane fa vedete che i pazienti ricoverati erano 62 e ora sono 34 si sono pressoché dimezzati e come vi dicevo prima i posti letto erano 124 e ora sono 91 quindi ne abbiamo riconvertiti altri 33. Anche la percentuale di occupazione dei posti letto è decisamente migliorata. questo dunque un estratto dalla conferenza di oggi ma intanto andiamo sui dati perché in Emilia Romagna sono 464 in più rispetto a ieri i nuovi contagi da covid il tutto su un totale di 21.699 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri dunque è del 2,1 per cento e l'età media dei nuovi positivi di oggi è pari a 36 anni. Purtroppo si registrano sei nuovi decessi in regione di cui uno nel ferrarese. Nella nostra provincia si tratta di un uomo di 87 anni. I nuovi guariti nella provincia di Ferrara sono 59 mentre i nuovi positivi sono 12 su 194 tamponi effettuati. Adesso invece parliamo del terremoto come diciamo in apertura oggi ricorrono nove anni dal sisma che sconvolse l'Emilia il 20 maggio del 2012. Questa sera alle 20 e 15 Telestense proporrà uno speciale dedicato alla ricostruzione di cui però ve ne mostriamo un'anteprima. Vediamo. Il 20 maggio 2012 l'Emilia veniva sconvolta dal sisma. A distanza di nove anni il 90 per cento della ricostruzione è concluso. La quasi totalità di cittadini e famiglie è rientrata nelle proprie case. Gli edifici ripristinati sono 8.000 per circa 16.500 abitazioni tra prime e seconde case rese di nuovo agibili oltre a 5.700 piccole attività economiche, negozi, attività artigianali, esercizi che si sommano a quasi 3.500 imprese dall'industria all'agricoltura al commercio ricostruite o riportate in sicurezza. Sono i dati resi noti dalla regione Emilia Romagna in una conferenza tenutasi alla presenza del presidente Stefano Bonaccini. Dopo nove anni, non so quante volte sia successo in questo paese, il secondo terremoto più disastroso per danni, oltre 14 miliardi di euro, secondo nella storia dei terremoti italiani solo a quello dell'Irpinia dell'80, perché qui per la prima volta nella storia dei terremoti italiani è stato definito terremoto industriale, perché ha colpito oltre 10.000 imprese e distretti, pensi a quello del biomedicale e la bassa modinese che sono tra i primi al mondo nel loro comparto. Dopo nove anni erano 60 i comuni colpiti, oggi sono solo 15 quelli che devono terminare, quindi ben 45, tre quarti hanno terminato la ricostruzione pubblica e privata. Il 95% delle opere che erano da realizzare sono già completate, cioè quasi tutto. Rimangono, come chiedeva lei, da terminare alcune opere che sono soprattutto quelle che riguardano beni in particolare architettonici, artistici, culturali, che sono spesso quelli più vetusti, quelli sottoposti a vincoli e quelli che ha bisogno di progetti particolari. Quindi l'impegno è quello di riuscire a accelerare al massimo tutto questo. E nello speciale in onda dalle 20.15 abbiamo fatto un bilancio anche delle scuole della nostra città con l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ferrara, Dorota Kusiak. La sentiamo. Dal punto di vista sismico, le strutture scolastiche di pertinenza del Comune di Ferrara sono tutte a posto. Infatti sono stati svolti diversi lavori da quando si è verificato il sisma nel 2012, che ha interessato 32 prezzi scolastici dal nido fino alle scuole medie, come è stato detto. In particolar modo di riparazione di quelli che sono stati i danni alle strutture. Poi inoltre sono stati eseguiti lavori di rinforzo strutturale, di miglioramento organizzativo anche delle vie di uscita di sicurezza, di consolidamento delle strutture. Quindi sono stati fatti diversi interventi proprio per garantire una massima sicurezza dei bambini e dei ragazzi che frequentano le sue scuole. I lavori più importanti hanno riguardato in modo particolare i due plessi, tra cui la scuola primaria Moschi, dove per complessivo 6 milioni di euro che sono stati investiti proprio su questo versante. Un milione ha riguardato il miglioramento sismico dell'intero edificio della scuola primaria Moschi. Un altro intervento importante che ha costato quasi 2 milioni di euro è stato quello di ricostruire nuovo, cioè abbattere e poi ricostruire la scuola dell'infanzia Aquilone. Parliamo adesso di un tema molto delicato, ovvero il fenomeno dei morti e degli incidenti sul lavoro al centro dell'Assemblea Generale Unitaria, organizzata dai sindacati CGL Cislewil al petrolchimico di Ferrara, questa mattina che è stata seguita anche in streaming. A livello nazionale si sta registrando una recrudescenza dei casi nelle ultime settimane e da tempo ricordiamo che i sindacati, anche ferraresi, chiedono più sicurezza, soprattutto in epoca pandemica. Intanto sempre questa mattina è stato inaugurato lo sportello sociale unico integrato nell'anello della Cittadella San Rocco nell'ex ospedale di Corso Giovecca. Che cosa potranno fare i ferraresi lo scopriamo da questo servizio. Un nuovo punto di informazione e orientamento per indirizzare il cittadino verso i tanti servizi di ambito sociale offerti alla comunità è questo lo sportello sociale unico integrato, il SUI, attivato dal comune di Ferrara all'interno della Casa della Salute Cittadella San Rocco di Corso Giovecca. L'apertura di questi spazi rappresenta una svolta in quello che l'amministrazione vuole dare come risposta alle esigenze dei cittadini. Lo sportello sociale unico integrato di fatti si realizza negli spazi della Cittadella San Rocco, questo per valorizzare ancora di più il rapporto sinergico tra l'amministrazione del comune di Ferrara e l'azienda ASL. Inoltre questo permette anche di far comprendere al cittadino come ci sia un filo conduttore tra le sue necessità e quelle che sono le risposte che può trovare all'interno e rapportandosi appunto allo sportello. Tra l'altro come amministrazione stiamo anche valorizzando attraverso la redazione di protocolli tra enti quella che è la risposta che può essere data alla necessità del cittadino. In particolar modo mi riferisco a tutti quelli che sono i rapporti con ASP ma anche con ACER, con il centro per l'impiego e anche quelle che sono i rapporti con la medicina generale. Lo sportello sociale è in particolare il compito di offrire accoglienza al cittadino del comune con un ascolto competente e dare informazioni e orientamento per arrivare alla rete dei servizi del territorio oltre all'invio ai punti della rete competenti per la gestione della domanda bisogno. Inaugurato anche lo sportello dedicato ai caregiver ovvero i familiari che assistono a un congiunto disabile o ammalato. Lo sportello è uno sportello polifunzionale, accoglie diverse figure professionali, partiamo sicuramente con la presenza della psicologa. Lo sportello mano a mano si arricchirà nel tempo di altre figure professionali, penso quella della fisioterapista o comunque di un operatore che orienterà ad esempio il caregiver nella ricerca di tutti i supporti per il proprio domicilio, dalla protesica agli ausili all'ottenimento delle invalidità, dell'accompagnamento di tutti quei supporti molto pratici per la gestione delle persone anziane, ammalate, disabili al proprio domicilio. È uno sportello che è strettamente connesso all'attività delle assistenti sociali, all'attività della presa in carico, all'orientamento anche e quindi sarà veramente collocato qua accanto al SUI per lavorare in sinergia per l'accoglienza delle persone. Questo sportello in modo molto più specifico su un target ben preciso di utenza, il SUI invece un'accoglienza a tutta la popolazione del territorio ferrarese. E domani sarà una giornata importante per lo sport, infatti venerdì 21 maggio transiterà in città la tredicesima tappa del 104esimo giro d'Italia Ravenna-Verona. La carovana dei ciclisti provenienti da Argenta percorrerà le vie Ravenna-Wagner-Fabbri-Goretti-Bologna-Darsena, il viale 4 novembre, il viale Po e via Padova per poi uscire dal territorio comunale presso Ponte Lago Scuro. L'arrivo del giro nel centro abitato è previsto per le ore 14. Per consentire il transito in sicurezza dei partecipanti nel tratto urbano compreso tra via Fabri e via Le Po, sin dalle 7 del mattino sarà in vigore il divieto di fermata con rimozione su entrambi i lati delle carreggiate e per lo stesso motivo verranno temporaneamente rimossi anche i cassonetti per la raccolta dei rifiuti presenti sulla sede stradale. Il provvedimento che vieta la circolazione dei veicoli sul percorso sarà invece attivato a partire da mezzogiorno. Inizialmente non verrà consentita la circolazione nel senso contrario a quello di provenienza dei ciclisti consentendo la circolazione nel solo senso di gara e negli attraversamenti. Successivamente il divieto sarà esteso su tutto il percorso in entrambe le direzioni. Ma vi ricordo che ulteriori dettagli li trovate sul nostro sito telestense.it. E parliamo anche della centese Jessica Rossi che sarà una delle due portabandiere dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Tiratrice a volo italiana, vincitrice della medaglia d'oro ai giochi olimpici di Londra 2012 nel trap femminile, Rossi porterà il tricolore nella cerimonia delle Olimpiadi che si terranno da luglio. Si tratta della prima volta che uno sportivo ferrarese viene scelto per il massimo onore al quale può aspirare un atleta che partecipa alle Olimpiadi. Adesso invece parliamo della giornata odierna che è la giornata mondiale delle api. A Ferrara questa mattina si è tenuta un'iniziativa che vi mostriamo in questo servizio. Ferrara può avere le caratteristiche per offrire un habitat favorevole alla sopravvivenza delle api proprio in un momento come quello attuale in cui questi insetti di grande importanza per l'uomo si stanno riducendo velocemente a causa dell'agricoltura intensiva e dell'uso di pesticidi nocivi? Alla complessa domanda ha cercato di dare una risposta a un gruppo di persone di realtà locali attraverso il coinvolgimento delle scuole di Unife. L'avvio di questo percorso di ricerca è avvenuto in occasione della giornata mondiale delle api con il posizionamento di un apiario di studio e monitoraggio nel giardino di Palazzo Schifanoia. All'iniziativa, trasmessa in diretta per alcune classi delle scuole primarie ferraresi, hanno partecipato l'assessore all'ambiente del comune di Ferrara Alessandro Balboni e i due responsabili del progetto. Oggi è la ricorrenza della giornata mondiale delle api. In questa circostanza abbiamo voluto, insieme ad apicoltori all'Università di Ferrara, dare via un progetto di biomonitoraggio che vedrà l'installazione di alcune arnie qua nel giardino di Palazzo Schifanoia. Un luogo simbolico amato dai ferraresi che è al centro della città in modo da poter rendere anche accessibile la conoscenza e approfondire anche l'empatia e la sensibilità verso questi animali che sono molto importanti per l'ecosistema urbano. Così importanti che tramite il miele che produrranno andremo a monitorare il tipo di inquinanti al suo interno e capire anche in questo modo la situazione dell'ecosistema e dell'ambiente in questo momento. E questa era la nostra ultima notizia. Prima di chiudere però vi ricordo come sempre a telestense.it e ai nostri canali social e vi ricordo pure che il nostro TV giornale in onda tutte le sere alle 22.30 sui canali 518 di Sky e di TVSat. Con questo è veramente tutto. Grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti.